Breve antiprima del video in uscita, questa volta abbiamo dei pezzi di un tabellone segnapunti con i numeri realizzati a matrice di led, abbiamo qualche segmento che non è più operativo. La casa madre non lo prende più in riparazione, è troppo vecchio e costa troppo e quindi troviamo un metodo facile per diagnosticare i guasti. Ricostruiamo lo schema di comando del singolo segmento, quindi realizzato con delle filiere di led pilotate da un transistor Darlington integrato nell'integrato ULN2803. Troviamo i punti giusti per alimentare i vari segmenti senza bisogno dell'unità centrale. Stabiliamo la tensione di alimentazione opportuna e diamo tensione. Andremo alla caccia dei led guasti e collegamenti che non sono più attendibili.